Cari amici, buongiorno! Oggi è la festa di Santa Teresina di Gesù Bambino e questa mattina mi sono svegliato con il desiderio di condividere con voi quello che Santa Teresina è per me. Non vorrei fare una conferenza, vorrei condividere con voi solo tre punti in cui Teresina per me è stata maestra. Ho deciso, proprio quando mi è venuta l'idea del video, di non andare lì a ridocumentarmi, a leggere, ma di parlare proprio con il cuore, quindi neanche andando a leggere le citazioni, ma prendendolo proprio dalla mente e dall'esperienza che si è impressa nella vita, perché penso che ciò che è importante nella nostra vita spirituale non è la cosa che magari ci colpisce una volta poi sparisce, ma ciò che segna la nostra esistenza. La prima cosa che ho imparato da Teresina o che è stata una grazia che è passata tramite Teresina è superare lo scrupolo, gli scrupoli. Io ho incontrato il Signore a 15 anni e questo incontro è stato accompagnato da un grande senso del bene e del male, quindi anche del peccato. Non è il senso di colpa, anche se le due cose purtroppo si incontrano a volte, soprattutto quando non siamo maturi, quando siamo ai primi passi nella fede. E quindi cosa è successo? È successo che sono diventato scrupoloso. Magari un pensiero negativo su qualcuno che ti passa anche istintivamente, molto naturalmente, non è un pensiero su cui ti fissi. Siccome volevo che la mia anima fosse totalmente pulita davanti al Signore, andavo a confessarmi e mi capitava di andare a confessarmi anche alcune volte, due volte al giorno. Poi le letture che facevo in quel periodo erano tutte letture tra 600 e 800, quindi il periodo proprio degli scrupoli, eccetera. E vi devo confessare, sono stato parecchio male perché la tua concentrazione va più sul peccato che sul rapporto col Signore. Anche se sarei ingiusto se dico così, perché pensavo tantissimo al Signore, cioè vivevo alla presenza di Dio. Conoscete bene il periodo del primo innamoramento, questo accade anche nella vita spirituale. Allora la prima lezione che ho imparato da Teresina era proprio di deconcentrarmi dal mio peccato e di concentrarmi sul Signore e sulla sua misericordia. E mi ricordo una volta, stavo parlando con un amico più grande di età, ma condividevamo un po' il cammino spirituale. E lui mi parlava della misericordia. E mi ricordo me lo disse anche in inglese. God is mercy. Io ho aggiunto God is also just. Quindi lui mi ha detto Dio e misericordia. Io gli ho detto Dio e anche giustizia o giusto. E lui mi ha detto just think about that. Just come per dire soltanto pensa a quello, che Dio è misericordia. E la grande lezione da Teresina, che è una lezione anche di teologia da una bambina, è proprio questa cosa di sapere che la giustizia è un volto della misericordia di Dio. Una cosa grandiosa. Cioè Dio non è che ha gli attributi uno messo accanto all'altro, un attributo, sì, al maschile, ma gli attributi di Dio sono concentrati nell'amore suo. Quindi sono espressioni del suo amore. Allora la giustizia di Dio è una giustizia ricolma, compenetrata da misericordia, come ha intuito Teresina. E questo fatto anche di non essere concentrato sul peccato è un grande insegnamento dei padri del deserto. C'è un apoftegma, quindi un detto sapienziale di Sant'Antonio il Grande, che dice, più o meno così, anche qui non sono andato a ridocumentarmi per citare alla lettera, ma proprio volevo aprire il cuore con voi, non concentrarti molto sul tuo peccato, non rattristarti molto sul tuo peccato, perché se ti lasci rattristare non ti stai concentrando sul Signore, ma ancora su te stesso. È grandiosa questa intuizione. Cioè in qualche modo Teresina, concentrando lo sguardo su Cristo, concentrando lo sguardo sull'amore di Dio, ci decentra dal nostro egocentrismo, che può essere un rischio nella vita spirituale, che tu inizi la vita spirituale, ma in realtà sei ancora te e te stesso, e non te e il Signore. Questa è la prima lezione che ho imparato da Teresina, ed è anche cronologicamente la prima lezione, perché l'ho imparata da piccolo, all'età di 15-16 anni. La seconda lezione è veramente qua, se la prima era quella, la seconda potrebbero essere tante, ma mi sono promesso di fare solo tre. La seconda è l'importanza della gratitudine. Lei in un certo momento scrive della gratitudine, del rendere grazie, del ringraziare il Signore, e dice fate un po' questa prova. Quando ringraziate il Signore in qualche modo lo commuovete e abbonda le sue grazie a voi. È una cosa che io ho provato e vi invito a provare. Personalmente la gratitudine, quindi la preghiera di ringraziamento che segue nel mio programma di preghiera l'adorazione, la benedizione, quando benedico il Signore per se stesso, per quello che è, questo occhio che si posa meravigliato davanti al Signore, la gratitudine è riconoscere i tocchi del Signore nella tua vita, riconoscere questi momenti di gentilezza, di provvidenza timida che non sta lì a dire oh ti sto facendo qualcosa, ma proprio nella delicatezza del quotidiano vedere il passaggio del Signore. E questa è un'altra lezione che non ho imparato solo da Teresina, ma Teresina me l'ha fatta concentrare in un suo detto e ho cercato anche di trasmetterla ai miei figli. Quando preghiamo la sera insieme nel piccolo breve momento di preghiera invito sempre i bimbi a ringraziare per qualcosa di quella giornata. Non deve essere qualcosa di eclatante, a volte anche il fatto di aver visto un film comico insieme, di esserci goduti la compagnia reciproca. Già questo è un motivo di ringraziamento. Ringraziare è perdere la lebra dell'anima. Infatti c'è quel passo del Vangelo dove ci sono dieci lebrosi e solo uno ritorna a ringraziare. Nove sono guariti dalla lebra del corpo, ma uno è guarito da una lebra più sottile, la lebra dell'ingratitudine, la lebra del non renderti conto delle grazie del tuo quotidiano. Perché se dovessi stare qua a contare le sfighe che mi sono capitate, e vi assicuro, da quando siamo arrivati a Lione abbiamo già avuto i ladri in garage, giusto per darvene una. Ci sono stati diversi ostacoli, cose che sono andate a rotoli, complicazioni burocratiche tra Francia e Italia non ve lo racconto e quindi mi potrei anche affogare, affondare dal senso di disfatta, dal senso di vittimismo. Però ci sono anche tante piccole e grandi grazie, tante piccole e grandi doni che ho ricevuto in questo periodo ed è giusto riconoscerli, è giusto riconoscere che nella mia vita c'è anche questo. Il terzo punto che ho imparato da Teresina, mi ricordo quando avevo 16 anni avevo preso quella frase, in arabo al suo tempo ero, in Libano, e l'avevo messa sopra il tasto della luce della mia stanza, quindi ogni volta che uscivo mi cadeva sotto l'occhio. Dico il contesto della frase e poi dico la frase più o meno come me la ricordo. È un momento in cui Teresa guarda una immagine dove c'è il sangue di Gesù che cola e lei dice in quel momento ho sentito il grande desiderio di raccogliere questo sangue, che cos'è il sangue? Non è proprio il sangue inteso solo come quella cosa rossa che abbiamo nelle vene, il sangue è la vita donata e l'amore donato di Cristo. Lei dice avrei voluto, ho sentito il grande desiderio di raccoglierlo per darlo alle anime affinché non venga sprecato e in quel momento dice ho sentito il grande desiderio e bisogno di dimenticare me stessa per donarmi, per darmi agli altri, per far piacere agli altri e da allora fui felice. Ecco qui c'è un grande, grande, grande segreto della felicità. Il segreto delle persone felici non è che hanno tutto quello che vogliono, cioè anche la persona più ricca, più potente non ha tutto quello che vuole, c'è sempre qualcosa che manca. L'essere umano è fatto per l'infinito, ha un cuore capace di infinito e qualsiasi cosa che ha andrà comunque oltre dopo. Allora qual è il segreto delle persone felici e che sono dimentiche di sé e sono dedicate agli altri e i santi sono dediti all'altro e agli altri nell'altro, quindi sono dediti al loro Signore, al loro amato, all'amore che non è amato come gridono più di un santo, San Francesco, Santa Maria Maddalena da pazzi, eccetera. E con questo loro oblio sono felici. Infatti c'è una bella immagine che lo psicologo Viktor Frankl presenta, quella della felicità. Dice la felicità è come una farfalla. Se la insegui ti sfugge. Io aggiungo magari inseguendo la vai lì, la acchiappi e la uccidi, mentre se crei le condizioni della felicità viene e si posa sui tuoi fiori. Ecco, quali sono le condizioni? Ce lo rivelano i santi, ce lo rivela una Teresina. Il segreto delle condizioni della felicità è donarsi agli altri. Quindi non vivere la vita spirituale è una lezione che imparo e che dico alle persone perché incontro persone che iniziano a vivere il cammino spirituale volendo stare meglio, stare sereni. Non concentrarti sugli effetti. Vivi il cammino e la gioia sarà frutto di questo cammino. E l'intercessione di Santa Teresina sia con tutti noi e ci aiuti a salire su questo ascensore della grazia, della gioia, della pienezza che sono le mani di Gesù.